Un tour intenso quello di oggi in Abruzzo per la segretaria del PD Heli Schlein a sostegno del candidato alla presidenza della regione per il patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico. In particolare la segretaria DEM si è recata a manopello per incontrare i cittadini e il comitato costituito ad hoc sulla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, progetto che così come non piace a molti, soprattutto a una cittadina dicono che verrebbe divisa in due. Lei è qui a manopello per incontrare i cittadini sulla discussa e famosa Pescara-Roma. Cosa dirà loro? Cosa dirà il comitato? Anzitutto faccio quello che la politica dovrebbe fare di più, ascoltarli. Ascoltare quali sono le preoccupazioni e le esigenze. Qui c'è in discussione il tracciato. Più in generale posso dire che mi ha colpito. È la quinta volta che torno in Abruzzo ad ascoltare le persone. Vorrei che l'avesse fatto di più il governo e vorrei che l'avesse fatto di più Giorgia Meloni perché abbiamo insistito a lungo per questo progetto importante della Roma Pescara e a pochi giorni dal voto la Premier è venuta a dire che ha trovato magicamente 720 milioni di euro. Il problema è da dove li prendono. Li tolgono dal fondo di sviluppo e coesione e quindi li tolgono sottraendoli ad altri progetti per l'Abruzzo. Questo si chiama gioco delle tre carte. È un furto mascherato. Hanno loro tolto i fondi dal PNRR e oggi li rimettono però togliendoli ad altri progetti per questa regione. Non è così che si fa? Sempre a sostegno del candidato Luciano D'Amico il senatore Matteo Renzi, leader di Taglia Viva, è stato nella sala del Consiglio Comunale di Pescara con la lista dei riformisti e civici data dall'iniziativa di Taglia Viva e Socialisti. C'è una grande attenzione anche nazionale perché i vari schieramenti immaginano chissà quali conseguenze a livello romano. Il mio suggerimento da ex sindaco, da ex amministratore è scegliete sulla base del candidato che preferite e pensate al futuro del vostro territorio. Per questi motivi noi stiamo con D'Amico. Poi Renzi risponde ai giornalisti sull'accordo con Azione di Calende e Movimento 5 Stelle. Un matrimonio possibile? Io penso che saremo un paese maturo e civile quando i confronti elettorali si faranno per scegliere il sindaco, il presidente della regione, la coalizione di governo e cioè si voterà con la sufficiente consapevolezza del fatto che in questa partita qui non è in gioco il futuro delle coalizioni nel mondo, è in gioco il futuro dell'Abruzzo e noi al futuro dell'Abruzzo teniamo e per questo pensiamo che D'Amico sia meglio di Marsilio.